Le divergenze intorno all'astrologia scaturiscono dalla diversità di due impostazioni di pensiero. Quella cosmologica, che crede nelle correlazioni di tutti i fenomeni, e quella scientifica o scientifica naturalista, che si limita all'interpretazione funzionale della realtà materiale. Quindi la scienza, nei confronti dell'astrologia, si pone delle domande. Che sono? Per esempio, dove sono i successi? Quali sono le possibilità? E soprattutto, esistono prove? Sebbene questi interrogativi siano tipici del pensiero scientifico naturalista, e quindi non possono essere applicati tut curta ad un'altra branca, dovrebbero e possono soddisfare anche uno spirito obiettivo, una mente naturalisticamente impostata. Per questo volevo fare alcuni esempi. Alcuni esempi reali, cioè scientificamente analizzati. Allora, per esempio, il primo è che gli effetti controllabili, misurabili di ritmi di lunazione, studiati dal medico Heinrich Gutmann, medico e filosofo, nel 1936 pubblica nella rivista Medizinske Welt gli effetti dell'influsso lunare in campo ginecologico e riscontrò, per esempio, un aumento di quasi il 100% di donne ammestruate nel plenilugno e nel novilugno. Un altro esempio, Hilmer Eckert, ha studiato, è un medico anche lui, ha studiato i ritmi di lunazione dell'organismo umano, questo risale nel 1961, e ha scoperto una dipendenza della frequenza delle nascite dalle fasi lunari, cioè nella fase crescente della luna aumentano le nascite dei maschi e diminuiscono quelle delle femmine, mentre nella fase calante diminuiscono le nascite dei maschi e aumentano quelle delle femmine. Vale a dire, le nascite dei maschi e delle femmine presentano un periodo a decorso polare di 29,5 giorni connesso con il corso sinodico della luna. Altro esempio, nel 1960 il dottor J. Andrew, la cui casistica comprende circa 1000 interventi di tonsillectomia, constatò che l'82% degli episodi emorragici si verificava in coincidenza col plenilugno. Un altro esempio ancora, il ginecologo cecoslovacco Jonas o Jonas ha messo appunto un metodo per calcolare i giorni fertili e quelli non fertili della donna, nonché i giorni nei quali la fecondazione dà luogo alla nascita di un maschio o di una femmina, che è basato su uno specifico ritmo lunare dipendente dalla data di nascita della donna. Il suo metodo di questo ne parlerò in un episodio perché è una cosa che ho testato anche con delle mie clienti e devo dire che è un riscontro molto importante, c'è quasi la possibilità di poter scegliere il sesso del figlio in un certo qual modo, ma poi va spiegato bene. Comunque, in questo metodo che è stato controllato su 5000 donne è risultato esatto per il 98% dei casi. questi esempi dimostrano che l'astrologia regge neanche ad un esame con metodi scientifici se ci si dà la pena di prenderla sul serio come materia di indagine. Tuttavia, io ritengo molto pericoloso questo controllo scientifico, anzi, lo temo addirittura. Lo temo perché mentre tali esperimenti non fanno che scoprire e formulare correlazioni funzionali, il modo di pensare, l'impostazione del pensiero a loro volta non cambiano, con la conseguenza che si finirebbe per operare con fenomeni che non sono stati capiti. Quello che importa, invece, è proprio capire le correlazioni. Cioè, a cosa mi serve sapere che in una determinata costellazione si verifica questo o quell'evento se poi non so dargli un significato, cioè se poi non so perché esso si verifica. Per questa ragione non mi auguro che un giorno l'astrologia o un'altra disciplina oggi considerata occulta venga riconosciuta dalla scienza ufficiale insegnata nelle università. Spero che non capiti mai. A quali riconoscimenti portino tali appunto riconoscimenti ufficiali lo sappiamo già. Basta considerare quello che è successo all'agopuntura. L'agopuntura esiste da 5.000 anni. La nostra scienza occidentale l'ha sempre condannata derisa ignorandola e i suoi propugnatori parte medici parte empirici sono sempre stati avversati con estrema violenza e denunciati dalla magistratura. Ebbene qualche anno fa quando sugli schermi un po' di anni fa oramai quando sugli schermi occidentali furono proiettati per caso film cinesi di operazioni indolori grazie all'agopuntura il pubblico si inchinò all'evidenza dei fatti manifestando piena voce il proprio interesse per il nuovo metodo e quindi poi furono iniziate ricerche scientifiche sull'agopuntura. D'un tratto la scoperta dell'agopuntura è diventata merito delle scienze esatte quasi e si cominciò a misurare ad indagare anche lì quindi furono costruiti tipo dei vibratori elettrici e sui risultati pratici veramente molto modesti perché non si è sentita la necessità di perfezionare sul piano spirituale un metodo terapeutico che ha le sue radici nella filosofia orientale e può essere capito e manovrato soltanto partendo da quel tipo di impostazione del pensiero si rimase ancorati alla funzionalità del lago nella pelle punto se avvenisse la stessa cosa dell'astrologia sarebbe una specie di catastrofe io credo che la via che conduce all'astrologia non passa attraverso la dimostrazione statistica di singole affermazioni e correlazioni ma attraverso l'apprendimento diretto della materia tuttavia il pensiero di questa fatica non può essere paragonato a una dimostrazione scientifica incontrovertibile si vive la verità dell'astrologia e delle sue possibilità direttamente e con tanta pienezza che il dubbio suona schermo per questa via il discente impara a scoprire le correlazioni conoscenza che è infinitamente al di sopra di qualsiasi fede o dubbio questa comprensione diretta queste continue scoperte non possono essere sostituite da nessuna dissertazione teoria o indagine statistica né naturalmente dai miei tentativi di far conoscere in questo podcast l'astrologia e le sue conseguenze per il nostro pensiero perciò quanto dirò nel prossimo episodio non può che servire da stimolo da invito a convincere se stessi perché se si sa non occorre credere grazie per l'ascolto